Nella sua opera, discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, Galileo Galilei affronta anche il problema della resistenza dei corpi solidi all'essere spezzati e in particolare come questa resistenza dipenda dalle dimensioni dei corpi. Facciamo alcune considerazioni preliminari. Se ho due grandezze matematiche o fisiche x e y e osservo che y cresce quando x cresce, posso affermare che x e y sono direttamente proporzionali? La risposta è no, perché può succedere che sia x che y crescano, ma in maniera diversa, ovvero che una cresca con una velocità maggiore rispetto all'altra. Seconda domanda che possiamo porci. Se ho un modello di un oggetto e lo riproduco alterando le dimensioni, per esempio costruendo un nuovo modello più grande o più piccolo dell'originale, la riproduzione avrà le stesse caratteristiche fisiche dell'originale, in particolare riguardo alla resistenza. Anche in questo caso la risposta è no, perché cambiare le dimensioni significa anche alterare la resistenza interna degli oggetti. Di questo argomento parleremo in questo video. Per la comprensione di questi aspetti facciamo qualche considerazione preliminare. Abbiamo qui sul tavolo alcune masse campione, da un grammo a un chilogrammo. La massa del più grande è mille volte quella del più piccolo, però se guardiamo le dimensioni lineari queste variano soltanto di un fattore 10, cioè l'altezza di questo pesetto grande è 10 volte quella del pesetto piccolo. Ma ovviamente tutto torna, perché tutte le dimensioni scalano di un fattore 10. Questo ha 10 volte più grande l'altezza, la larghezza, la profondità, quindi il volume cambia di un fattore mille. E siccome la densità è la stessa, perché gli oggetti sono fatti dello stesso materiale, anche la massa cambia di un fattore mille. Questo esempio semplice ci fa capire che cambiando di un fattore F, di un fattore di scala F, le dimensioni lineari dell'oggetto, la massa, se la densità è la stessa, cambia di un fattore F alla terza, perché va come il volume. Possiamo vedere una cosa simile con queste sferette di acciaio. Qui abbiamo due tipologie di sferette, una sfera più grande, di diametro 30 mm, e alcune sfere più piccole, di diametro 15 mm, quindi di diametro pari alla metà di quello della sfera grande. Adesso faremo delle pesate sulla bilancia per confrontare la massa della sfera grande con la massa delle sfere piccole. Vediamo quant'è la massa di questa sfera grande. La bilancia ci dice che è 110 grammi. Facciamo la stessa cosa con le sfere piccole, però vediamo che ne dobbiamo mettere 8 sul piatto della bilancia per avere la stessa massa. Questo perché, come abbiamo visto, il peso varia col cubo del fattore di scala. Facciamo un esempio di tipo diverso, una fune che deve sostenere un carico. Abbiamo qui due funi di diametro, una al doppio dell'altra. Questa a diametro 12 mm, questa a 6 mm. Le due funi sono composte da tanti filini sottili e la resistenza della fune dipende dal numero di filini che stanno nell'area della sezione, la quale dipende dal quadrato del diametro. Quindi la resistenza della fune dipende dal quadrato del fattore di scala. Questa fune più spessa è in grado di sostenere un peso che è 4 volte quello della fune più sottile. Vediamo però quello che succede quando noi applichiamo a queste due funi due carichi. Immaginiamo di avere due cubi, come in questo caso dello stesso materiale, uno di spigolo L, uno di spigolo 2L, appesi appunto a queste due funi il cui diametro varia di un fattore 2. Vediamo che il sistema più grande è intrinsecamente più fragile perché il peso dei cubi scala di un fattore 8, mentre la resistenza delle funi scala soltanto di un fattore 4. Quindi aumentando progressivamente l'ingrandimento del sistema, a un certo punto la fune si spezzerà. Questo risultato è valido in generale. È valido anche per i sostegni di un oggetto, di un manufatto, di un organismo vivente. Il manufatto, l'organismo vivente non può raggiungere dimensioni più grandi di un certo limite perché a un certo punto i sostegni si spezzerebbero. Nell'uomo, quando le dimensioni cambiano, il peso varia col cubo del fattore di scala, come abbiamo visto. Però la resistenza del femore, su cui è appoggiato il peso del corpo quando l'uomo è in posizione retta, varia con il quadrato del fattore di scala perché dipende dalla sezione dell'osso su cui tutto il peso appoggia. Per questo non possono esistere dei giganti molto più grandi dell'uomo comune perché le loro ossa non potrebbero sostenerli, perché il peso aumenta più di quanto aumenta la resistenza dell'osso su cui il peso si poggia. Galileo scrive Chi non vede come un cavallo cadendo da un'altezza di tre braccia o quattro si romperà l'ossa, ma un cane da una tale e un gatto da una di otto o dieci non si farà mal nessuno, come né un grillo da una torre né una formica precipitandosi dall'orbe lunare? I piccoli fanciulli restare illesi in cadute dove i provetti si rompono gli stinchi o la testa? E come gli animali più piccoli sono a proporzione più robusti e forti dei maggiori, così le piante minori meglio si sostentano. E già credo che a me in due voi apprendiate che la natura non potrebbe fare un cavallo grande per venti cavalli né un gigante dieci volte più alto di un uomo, se non o miracolosamente o collalterare assai le proporzioni delle membra ed in particolare dell'ossa, ingrossandole molto sopra la simmetria dell'ossa comuni. Anche negli aspetti legati alla tensione superficiale si vedono gli effetti del cambiamento di scala. Questa piccola graffetta metallica può restare a galla appoggiandosi sulla superficie dell'acqua. Una graffetta di dimensioni maggiori e di forma simile non potrebbe farlo, perché peso e tensione superficiale scalano con le dimensioni in modo diverso. La tensione superficiale dipende dal quadrato del fattore di scala, ma il peso dipende dal cubo. Quindi la tensione superficiale diventa sempre più importante quando le dimensioni degli oggetti diventano piccole. Abbiamo qui un cubo di legno sospeso al centro di una sbarretta di acciaio a sezione cilindrica e possiamo osservare come la sbarretta si flette sotto l'azione del peso del cubo di legno. In questo caso abbiamo un cubo di legno del tutto simile a quello che abbiamo usato poco fa, ma il cui spigolo è la metà del precedente. Anche la sbarretta è scalata di un fattore 2, sia nel diametro sia nella lunghezza. Vediamo che il cubo fa flettere la sbarra, ma in proporzione meno di quanto il cubo grande facesse flettere la sbarretta precedente. Questo dimostra ancora una volta che il sistema di grandi dimensioni è intrinsecamente meno robusto del sistema di piccole dimensioni. Galileo scrive, la macchina maggiore, fabbricata dell'istessa materia e con le stesse proporzioni che la minore, in tutte le altre condizioni risponderà con giusta simmetria alla minore, fuorché nella robustezza e resistenza contro alle violente invasioni. Ma quanto più sarà grande, tanto a proporzione sarà più debole. Qualche volta anche noi ci siamo meravigliati osservando le formiche o altri insetti che trasportano carichi molto più pesanti di loro stessi. In realtà questa forza così impressionante può essere in parte spiegata come effetto delle dimensioni di questi oggetti e come conseguenza del cambiamento di scala.